Lotto 263, Viero Ruggeri, variazione numero 11961, il suo cartoncino rintelato, 68x46, Già che veniva dal bussolo al primo, viene messo in gara a 4.000 euro, 4.200 per ospetta ricevuta al banco, 4.400 web, i telestri cosa dicono? 4.400 web, 4.600 euro, 4.800 euro per la prima, aspetta 5.000, chi ne fa 5.000? 4.800 web, 5.000, 5.000 altro web, 5.000 euro per la prima, 5.000 euro per la seconda, 5 web, 5.500 euro per la prima, 6.000 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 euro per la seconda, se sapere a tutti, a giudico a 6.500 euro per la prima, 6.000 euro per la seconda, 1.500 euro per la prima, Grazie.